Buongiorno amici e amiche di FC Inter News, campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino su canale YouTube di FC Inter News, da lunedì venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter, oggi ritroviamo con noi il nostro Mattia Autodisco, ben ritrovato Mattia. Buongiorno. Allora Mattia, si è conclusa ieri la prima giornata degli europei, domani ci sarà Spagna Italia, quindi vivremo insieme su FC Inter News anche la vigilia di questo importantissimo match, continueremo ovviamente a monitorare da vicino anche tutti gli altri giocatori dell'Inter impegnati in Germania, mentre continua a tenere banco anche in casa Inter il calcio a mercato. Siccome mi arrivano tanti messaggi anche durante le trasmissioni live del salotto, voglio fare un'chiarezza un po' su quello che sta accadendo nel reparto offensivo, perché ci sono anche tanti giovani da sistemare in uscita, ci sono tante situazioni da definire e soprattutto anche aggiornamenti molto molto importanti. Partiamo da Esposito, che è vicino all'Empoli, quindi dovrebbe essere promosso in Serie A dalla Sampdoria all'Empoli, quindi per lui pronto una nuova avventura in Serie A, mentre Oristanio dovrebbe essere con la pedina per sbloccare l'affare con il Gemma legato a Martinez. Quindi Oristano e Esposito vanno verso la Serie A, Oristano ovviamente reduce anche dall'esperienza con il Cagliari, in questo caso però cambierà non i colori della maglietta, ma città dal Cagliari al Gemma. Al Cagliari potrebbe andare Francesco più esposito, è una situazione da monitorare, mentre Matti a questo punto bisognerà trovare poi una soluzione per Satriano, che poteva essere una contropartita da utilizzare nell'affare Martinez con il Gemma, Reduce da un'ottima esperienza con il Brest in Ligano, si potrebbero sistemare in uscita, si parla per esempio della Spagna da questo punto di vista. Ti cedo la parola su Satriano e ti chiedo se secondo te dobbiamo aspettarci ora, veramente nelle prossime settimane, in vista anche di quello che accadrà nell'Europeo, l'Inter cercherà secondo te di scambiare nel reparto offensivo Arnautovic con Gudmusson, in virtù anche di quello che si sta facendo oggi con il Gemma, cioè magari apparecchiare il discorso, apparecchiare la trattativa con Gudmusson, perché sicuramente forse se ne sarà parlato anche nell'affare Martinez. Ma apparecchiarla sì, la questione è che ti puoi anche portare avanti per quella che è la definizione della valutazione del giocatore, però all'Inter sanno bene che poi comunque uno spazio lo devi aprire e che non è una cosa che riguarda soltanto Arnautovic, devi comunque piazzare lui, devi piazzare Correa, devi piazzare anche tutti quegli altri nomi che hai già citato tu e che comunque sono operazioni che sai che dovrai fare e che molto probabilmente verranno comunque fatte prima di arrivare all'inizio del ritiro, nel senso che comunque al di là del fatto che poi con il tecnico Simone Inzaghi ci sono ancora in corso delle trattative per quel che riguarda il rinnovo, però sai già che l'allenatore rimarrà lui e più o meno insomma diciamo che è stato deciso a chi dare un'opportunità in ritiro e chi invece comunque è un giocatore che in qualche modo deve cercare già da adesso una destinazione. Il giocatore che hai citato comunque sono quelli che sanno che andranno via e per cui comunque si sta cercando. Poi non è detto perché sai da qui a luglio ci sono i giocatori che hanno comunque una destinazione un attimino più precisa perché magari sono un po' più avanti come può essere appunto Sebastiano Esposito con l'Empoli, ci sono quelli per i quali bisognerà lavorare un po', per esempio Satriano non ha in questo momento una situazione così definita. Oristagno potrebbe averla effettivamente nel momento in cui l'Inter e il Genoa oggi o domani dovessero chiudere decidendo per quella contropartita tecnica che è comunque uno dei nomi che sono stati messi sul tavolo dall'Inter. Però diciamo che, ripeto, più o meno è stato deciso, lo ha detto anche per esempio nel reparto offensivo si parla molto di Valentin Carboni perché ovviamente essendo stato anche a sorpresa, dobbiamo dire, convocato per la Coppa America, è al centro di parecchie notizie, però da questo punto di vista sa anche che l'Inter, a meno che non arrivi veramente un'offertona clamorosa, è orientata a portare il giocatore in ritiro, anche se poi bisogna anche vedere quando tornerà dalle vacanze appunto in Coppa America, valutarlo e poi dopodiché decidere il da farsi, quindi se prestarlo, se cederlo o se cederlo con una recompra a seconda di quello che sarà il valore a cui riesci a cederlo. Su quello sai già che le valutazioni finali non sono state fatte anche perché si aspetterà per capire che cosa offre il mercato e anche quelle che sono delle necessità, nel senso che a quel punto se poi Inzaghi ti dice no ma io voglio a tutti i costi Gudmundson, costi quel che costi, per cui al di là del cedere Arnauto che c'è Correa, servono dei fondi per arrivare a Gudmundson, magari è più probabile che si possa mettere Carboni in quella ridda di nomi che vengono valutazioni per un'eventuale cessione. Per gli altri, ripeto, sai già comunque che la decisione è quella di cercare di cederli, poi qualcuno in presto, qualcuno in presto con un diritto di riscatto contro riscatto, qualcuno a titolo definitivo. E sia successo sia con Pio Esposito perché lo Spezia l'ha riscattato e l'Inter l'ha esercitato per 500 mila euro. Credo che comunque la questione è anche da quanto tu sei un po' nel giro nei prestiti e quanto effettivamente la valutazione del giocatore ti consente di avere una recompra. Pio Esposito ha fatto un presto solo in Serie B, per cui il prossimo sarà comunque di nuovo un presto se non è secco e con diritto di riscatto e contro riscatto, ma è un presto di quelli con cui in qualche modo ti tieni comunque il controllo sul giocatore e dai un premio di valorizzazione come è successo. Il fratello magari è diverso, no? Con Sebastiano Esposito è un po' difficile anche, tanto per dirti, se la Sampdoria fosse salita in A, lui sarebbe stato acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria. Per cui è chiaro che comunque, perché comunque è già da un po' in quel giro di prestiti, insomma ha fatto comunque tanta B, viene da un anno in cui secondo me quando ha giocato ha dimostrato di essere un giocatore che può fare la differenza in B, tra l'altro lui ha già fatto anche una promozione col Venezia dalla B alla A, cioè è un giocatore che a livello di caratteristiche tecniche secondo me vale la Serie A, ma il problema è che quest'anno è stato di carattere fisico, cioè se è un giocatore che fa le partite stai fuori un mese, ne fai due e dimostri un problema e poi fai fattore a trovare qualcuno più. Oristano ha sfruttato al meglio la parentesi al canale, se è messo in mostro. E lui ha avuto qualche problema, poi sono dei giocatori di tipo diverso e secondo me a Oristano per esempio ha fatto bene aver fatto l'esperienza all'estero, io forse quest'anno mi aspettavo qualcosina di più al Cagliari, non è riuscito onestamente del tutto a imporsi, io sono convinto che abbia anche lui le qualità tecniche molto importanti, tant'è che comunque era entrato anche nel giro delle nazionali e tutto, però deve ancora fare un salto di qualità. Certo, ha fatto l'A e probabilmente comunque al di là di come andrà a finire, perché sappiamo che anche il Venezia era interessato e tutto è, però ha interessamenti da parte di squadre di Serie A, quindi adesso vedremo se oggi sarà il Genoa e quindi sarà lui, o se non sarà lui e tutto è, però resta nel giro del massimo campionato. Sì, 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 è un nome su cui diversi club, ecco, hanno acceso il riflettore, detto bene tu no, il Venezia si discuteva anche nell'affare Testman, mentre in questo caso pare che in ultime ore la carta che possa sbloccare, portare alla fumata bianca della tradativa per Martinez con i geni, è proprio l'istano, quindi capiremo nelle prossime ore, pare che siano ore comunque calde e decisive, se non oggi o domani. Il problema è capire cosa ne pensa lui, nel senso che il Genoa comunque è una squadra che gioca in maniera diversa dal Cagliari, e il Genoa è anche una squadra che a livello di attaccanti adesso sta comunque tenendo Vitigna, Reteghi non lo cede, Gudmundson non lo cede, vediamo cosa succede con Ekuban, cioè dipende anche che spazio pensa di poter trovare, nel senso che tu poi puoi anche trovare un accordo con il Genoa per cui dici ok, queste sono le possibili contropartite a te, quale piace? Questa? Va bene, ti do questa, dobbiamo sentire il giocatore. Certo, certo, comunque il Genoa è un po' che si è sempre espresso. Rispetto magari al Cagliari potrebbe essere anche, parlano di piazza, parlano in qualche modo, Salto sicuramente, certo, ma fa un modo, può essere un salto, però è chiaro che poi nella valutazione, anche quella di capire se tecnicamente puoi essere adatto, o meno sono in misura maggiore le valutazioni che poi facciamo anche noi quando parliamo adesso di carboni, diciamo che i carboni... Ma tu sei d'accordo con lo zio Beppe? Sul fatto che nel 352 sia difficile da vedere, adesso sì, io ti dico anche, secondo me a livello di caratteristiche su cui puoi lavorare, secondo me Carboni non è così differente da Goodmanson, è che Goodmanson quel processo di crescita, di esperienza e di, diciamo, trasformazione in un ruolo da seconda punta a tutto campo, già l'ha fatto, perché è più grande, perché comunque ha lavorato proprio su quel ruolo lì, e quindi lo è già diventato. Carboni no, anche perché il Monza giocava in maniera diversa dal Genoa, però secondo me Carboni le caratteristiche per fare la seconda punta in un 352 le ha, perché le ha, è chiaro che è una scommessa che devi fare, di investirci e lavorarci su, tra l'altro l'Inter ha uno staff tecnico che abbiamo visto, che se si mette a lavorare su un giocatore, sanno come farlo crescere, sanno come impostarlo anche in una posizione, o magari in un'interpretazione di quella posizione diversa. Quindi io dico la verità, che secondo me un'idea può essere anche quella, se appunto non hai poi i fondi e ti vuoi tenere il giocatore non è un giocatore, di lavorarci su. Però siamo tutti d'accordo, come ha detto lo zio comunque, che è evidente che se tu ti tieni Carboni l'anno prossimo non è così facile, anche con tutte le partite che ci sono, che trovi lo spazio, che servirebbe a un 2005 per crescere, questo mi sembra abbastanza evidente. Sì, è una questa che dobbiamo tenere anche aperta, nell'ottica della famosa quinta punta da tenere, anche nei discorsi della lista UEFA, in questo caso Carboni rientrarebbe a pennello nella voce, quindi sono valutazioni da fare. È chiaro che la Coppa America sposta un po' l'ago della binancia, sposta soprattutto la decisione, la trasla nel tempo, perché come ha ricordato bene Mattia, ora bisogna capire anche Carboni quando tornerà. I sudamericani sono l'ultimo. Allora, una po' la sposta già, se non gioca, diciamo che l'ha già spostata adesso per quello che può spostarla. Sì, se gioca. Se gioca e gioca bene, ti sposta tanto, perché è un 2005 che magari ti mette un gol decisivo, ti fa una giocata, comincia a essere già una cosa che... Molto, molto importante. Sai, al di là poi delle prestazioni, è evidente che nel mercato fa molto anche quella che è la sensazione. se uno come Messi ti fa un endorsement, e allora sai, qualcuno anche che magari non l'ha visto così bene, dice, ah, aspetta che andiamo a vedere un po' cosa ha fatto sto ragazzo. E lo segue da Messi. Lo segue ancora di più da vicino. Quindi magari le offerte possono arrivare, possono essere anche superiori, no? A quella di 20 milioni di euro della Fiorentina. Secondo me, deve mandare una scatola di cioccolatini al giornalista che ha fatto la domanda a Messi, perché ha fatto la domanda. Anche la seconda domanda, Mattia, non è banale. Cioè, in Argentina, veramente credono che i carboni... No, ma è evidente, ma perché già quando ha convocato tutti e due i fratelli, non erano operazioni, come è stata quella che ha fatto Mancini all'epoca con Zagnolo, piuttosto che poi, negli ultimi tempi, con Paffundi. Cioè, sono quelle operazioni che fai per dire portiamo il ragazzino per fargli fare esperienza perché, secondo noi, è uno di quelli delle giovanili che hanno più possibilità di esplodere. Non perché già... Ciò che è fatto per evitare che i carboni potessi indossare la maglia azzurro un giorno. Esatto. C'era anche quell'idea... Non è giocato a questo titolare oggi, chissà. Quell'idea lì. Dopodiché, da quello a decidere, dopo i tagli definitivi, di portarlo in Coppa America, c'è un passo importante, anche perché, tanto per dire, fratello Franco, per esempio, non c'è rimasto in quel giro, anche perché non è riuscito a restare in Serie A, è andato a Terni, ha fatto fatica a Terni, e quindi... Cioè, poi te lo devi anche guadagnare, devi rimanere. Devi anche fortuna, perché devi trovare uno come palladino che ha fiducia nel ragazzo, ti fa giocare, e allora... Quindi, servono tante cose. Però, certo, ti ripeto, poi tu fai l'amichevole, la fai abbastanza bene, perché ti guarda contro il Guatemala, cioè, vuol dire, non è che... ti mangi il rigore, fai vedere che comunque a livello di tecnica, chiaramente, Ciccic, Cicc, Cicc, ha fatto un buon ingresso, anche nel penultimo test, che c'era stato qualche mese fa, era entrato bene. Quindi, è chiaro che poi si crea un hype che va bene, che all'Inter va bene, anche perché, dobbiamo dire, e questo, bravo il ragazzo, bravo che lo gestisce, bravo la famiglia, non hai di fronte uno che sembra comunque essersi adesso montato, perché gli hanno fatto due interviste in cui si capisce comunque che c'è chi lo stima. È un ragazzo che sembra tranquillissimo, abbiamo visto anche quando abbiamo fatto l'ultimo Monza-Inter 1-5, lui è uscito tranquillamente a piedi dallo stadio, si è fatto le foto con i tifosi dell'Inter, già senza nessun problema, lui, tal che ovviamente per la gioventà non aveva la patente, sono venuti a prenderlo in macchina fuori dallo stadio, si è fatto i suoi selfie, i suoi autografi, si è preso i suoi complimenti, le sue pacche, è salito in macchina sorridente, non ha detto una parola, lo vedi molto timido, tranquillo, ma un ragazzo, un ragazzo esatto che sembra esatto, che sembra molto impostato. E questo fa la differenza, abbiamo sempre detto, perché il talento non manca per arrivare a giocare poi con i livelli, essere sempre costante, ci vuole la testa, e questo l'abbiamo sempre ripetuto. Poi comunque, lo dobbiamo ricordare, Mattia, dice Lautaro, è in ritiro con lui, quindi sicuramente potranno svolgere un ruolo molto importante da capitano. Quando sei comunque in ritiro con l'Argentina, sono anche gli altri compagni che poi lavorano per far sì che ti faccia bene nell'Argentina, perché comunque tu adesso non è che giocare con l'Inter, stanno giocando con l'Argentina, non è che De Paul non lavora, o Di Maria non lavora per far sì che il ragazzo faccia bene, comunque è interesse di tutti cercare di andare a rivincere la Coppa America. Vedremo, comunque ecco, il mosaico degli attaccanti, un po' si sta definendo, l'abbiamo detto, Ristanio, lo diamo per il momento verso il Genoa, esposito, Sebastiano verso l'Empoli, più esposito verso il Cagliari, c'è la definizione ovviamente la situazione Arnautvic, Correa in uscita eventualmente per far spazio a Gunnusson, sempre il dilemma, il punto interrogativo legato a Valentin Carboni, da capire cosa l'Inter deciderà, mentre Satriano, capiremo se verrà poi magari utilizzato anche in altre trattative future, magari proprio col Genoa, in futuro i discorsi si riallacciano, ma attenzione anche al mercato spagnolo, il Valencia, pare essere uno dei club più interessati a lui. Questo è un po' il mosaico, non lo dobbiamo ricordare, poi ci sono belli, conferme, Lautaro, Turama e Taremi, possiamo ecco, dormire, Sonidoro per il momento, l'Inter credo che comunque cercherà di regalare a Inzaghi un reparto più completo possibile dal punto di vista delle caratteristiche, poi capiremo, come ha detto bene Mattia, il calciomercato è in continua evoluzione. Mattia io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo presto. Grazie a te. Nei commenti, diteci ecco, rispetto a tutte queste possibili voci, qual è il vostro attacco dei Sony, cioè con quale attacco partireste in vista della prossima stagione. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19, vivremo insieme la Vigilia Anità, nelle ultime di formazione, le ultime dal ritiro azzurro e non mi resta che lasciarvi con un carlosissimo, sempre forza interno.